Ciao ragazzi, sto con Anthony Sì, Michele Uccella Chi è? A neve, Michele Salle A neve Siamo in macchina con Anthony Buonasera Anthony Buonasera a te Salutiamo a tutti gli amici di Facebook, di Youtube A tutte le tue fan Vi ricordo sempre il giorno 31 31 dicembre Alle ore 16 16 al Bar Stadio Bar Stadio Anthony Live Ciao ragazzi Ciao ragazzi, non mi piace sta cosa Anthony Live Amarvutano Ingresso libero, ricordiamo Non si parla, dovete solo consumare Ma non è nemmeno Diciamo una cosa obbligatoria Non è bravo Ma a parte che tu hai tutte le tue fan Cosa Amarvutano Le tue fan, le tue amiche Amiche di fan non c'è sta Fai un saluto a tutti gli amici di Radio Onda Verde Un saluto a tutti gli amici di Radio Onda Verde Un bacio ragazzi Di Michele Napolitano E tu stai parlando tu Un bacio a Michele Napolitano Ciao ragazzi Ciao